Allora Maria, guarda qua, io qua ho un mazzo di carte, giusto, tutti normali, giusto, regolare. Dimmi la carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, vai. Una carta che... Infatti lo devo dire, un po' di io, non so bene in italiano, voglio dire. Dal lasso al re, dal lasso al re. Fammi un... Dal lasso al re? Un jay rosso. Jack rosso. Rosso. Core. Jack di core. Ok. Dimmi il numero tra 1 e 50 e mezzo, un numero che vuoi tu. So, 18. 18? Sicura? Sicura. Ok, tu stessa adesso, io non toccherò mai le carte, conta 18 carte. Togli 18 carte sopra il mazzo. Ok, scordiamo. Io non ho mai toccato le carte, ok? Se vedi il jolly non lo si conta. Allora, sono 3, 4, 5, 6, 7, bravissimo, 8, 9, 10. Il jolly non conta quindi 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 18 carte ne tolte, giusto? Sì. Se questa carta è il Jack di cuore, è un miracolo. Sì. Sei d'accordo? Sì, è preso il Jack di cuore, sicuramente. Eh sì. Signore, signore. Jack di cuore. Se è un miracolo, sì. Vabbè, che ti sa già, ci, 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 ci. Io ti miso, ci sono 250 euro per l'esibizione, anche se io gli assegno la minuccia. Ah, vi grazie, vi grazie, vi grazie, arrivederci.